Atti Vandalice Degrado al parco di Via Cucci a Sant'Orso inaugurato dalla precedente amministrazione. Pannaroni, che cosa avete riscontrato e quali sono le sue richieste? Sì, ci sono alcune situazioni nella città di Fano che vanno monitorate e vanno controllate. Una di queste è quella che riguarda appunto il nuovo parco di Sant'Orso inaugurato dalla precedente amministrazione con dei giochi messi a ridosso della strada, anche lì sarebbe un pochino discutibile, però ci hanno segnalato, io tra l'altro abito lì vicino quindi ho anche una diretta contezza diciamo così, è stato segnalato che ci sono atti vandalici da parte dei ragazzini che frequentano questo luogo. Il fatto che si riadunano i ragazzini l'abbiamo fatto tutti da giovani quindi è una cosa normale però finché si rimane a due chiacchiere, due parole anche sopra le righe fino a un certo orario va bene, poi invece no perché c'è comunque gente che abita lì vicino che alla mattina alle 6 magari inizia anche il turno in fabbrica e sono stati riscontrati atti vandalici, ultimamente purtroppo è stato rotto anche il canestro del campo da basket, i cestini vengono rotti, non vengono sostituiti. Bisogna dire la verità che c'è una situazione che è stata purtroppo anche ereditata dalla precedente amministrazione che non ha portato a compimento il 100% quello che era il nuovo parco. Adesso è arrivato Luca, noi come Movimento 5 Stelle siamo sempre attenti alle segnalazioni che ci vengono fatte e qui ci hanno proprio riportato una situazione di degrado, di disagio, viene dato fuoco al pavimento antitrauma che c'è dove c'è la palestrina di Sant'Orso, quindi situazioni di degrado che vanno monitorate per evitare che diventino ancora più gravi. Dunque chiedete anche più controlli? Sì assolutamente, più controlli da parte della polizia, delle forze dell'ordine, ma anche più passaggi da parte di ASED per pulire le situazioni di sporcizia che vengono lasciate intorno. Il fatto dei passaggi magari della polizia un pochino più frequente magari possono portare a conoscenza di questi ragazzi che c'è un controllo, non c'è una totale situazione di degrado, di lasciato all'abbandono. Però è importante focalizzare l'attenzione, monitorare queste situazioni per evitare che sfoci in cose ancora più gravi perché i residenti realmente sono veramente stanchi di questa situazione di disagio, soprattutto per chi alla mattina deve andare a lavorare.